Il nucleo era già in attività da un po' ma alla presenza del ministro Dario Franceschini è stata inaugurata oggi la serie del nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale nel capoluogo avviata ufficialmente il 1 marzo del 2021, competente per l'Abruzzo e Molise, già protagonista dell'importante recupero di un antico libro restituito ai frati del convento di San Giuliano e diretti militari all'Aquila dal capitano Manuel Curreri. La serie si trova in via Agnipili ed è stata messa a disposizione dal comune ma la sistemazione è temporanea perché il nucleo come l'archivio andrà nell'edificio attivo alla Basilica di San Bernardino non appena la struttura sarà recuperata. Per questa occasione è presente il comandante generale dell'arma, il generale Teo Luzzi. Io dico che è una bella giornata per i cittadini perché aprire un'altra struttura dei Carabinieri altamente specializzata nella tutela del patrimonio culturale è un grande lavoro, un grande risultato. Per una serie di considerazioni intanto significa aiutare la protezione dell'identità di quest'area che è uno tra i beni più preziosi dei cittadini. L'altro sicuramente fare il sistema con tutte le amministrazioni locali dello Stato per dare un servizio sempre di maggior qualità alla gente. Ovviamente parliamo in questo momento sempre di tutela dei beni culturali. Rigidissime le normative anticontagio tanto che è stato predisposto solo un punto esterno per la stampa all'emiciclo mentre la cerimonia inaugurale si è svolta all'interno. All'interno della navata centrale dell'ingresso della serie del Consiglio regionale esposte alcune opere recuperate dal personale del comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e restituiti alle organizzazioni di appartenenza. La presenza di questo nucleo in una città come l'Aquila ha una valenza importante, una città ricca di storia e cultura, un valore aggiunto che sa di speranza.